mi ci carissimi bentornati nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di morica di gloria polo che abbiamo intitolato reporter degli inferi dell'inferno come sappiamo ormai questa testimonianza di questo ciclo di catechesi non faccio altro che leggere e commentare ha dei contenuti molto molto forti molto molto impattanti diciamo così sulla sensibilità delle delle persone perché questa donna ha vissuto un'esperienza molto molto forte assolutamente atipica e inedita e per quelle cose che dice per volontà di nostro signore gesù cristo sono proprio destinate a a scuotere le le coscienze con una modalità peraltro un modus operandi un modus agendi quale quello che appunto nostro signore ha voluto operare con lei e quindi indirettamente con noi che siamo i destinatari della testimonianza molto forte come è opportuno fare quando si tratta di scuotere le le coscienze tutti quanti i grandi predicatori e maestri di spirito erano ben consapevoli che quando c'è una coscienza da scuotere non si può andare troppo con l'ovatta e con il bisturi non si deve andare troppo con l'ovatta ma piuttosto usare il bisturi poi come faceva san giovanni battista che era il precursore colui che doveva preparare la strada al signore poi quando si è diciamo così toccata la coscienza è lì certamente poi arriva il signore con la sua misericordia e bontà a fasciare le ferite a riempirci del valsamo del suo amore darci il suo perdono eccetera no però è evidente che prima di di passare al perdono bisogna prendere coscienza della colpa bene la volta scorsa abbiamo visto i primi anni di matrimonio di gloria oggi primo paragrafo che ci attende è intitolato utilizzo consapevole del dispositivo intrauterino cioè quella maledizione o meglio quell'oggetto maledetto certamente da dio che è la spirale che tanto per provvedimento dirà non è semplicemente un contraccettivo ma è un contraccettivo abortivo cioè la spirale fa fare una serie di micro aborti perché non impedisce il concepimento ma l'annidamento del dello zigote peraltro aborti inconsapevoli perché di un aborto spontaneo generalmente si è consapevoli di quello volontario certamente si è consapevoli ma di questi no e quindi è cosa particolarmente odiosa lascio la parola gloria e iniziamo a leggere tanto già sappiamo che lei col marito vivevano specialmente i primi anni di matrimonio una sessualità molto disordinata e spensierata diciamo così per usare un eufemismo leggo io e mio marito vivevamo dunque la sessualità in maniera spensierata la spensieratezza nei confronti di un eventuale e inaspettato concepimento me la offriva l'anticoncezionale che da quando avevo 16 anni sul consiglio del ginecologo che praticò il mio aborto avevo preso l'abitudine a utilizzare la spirale o il dispositivo intrauterino il ginecologo non mi aveva però detto che la spirale svolgeva anche una funzione abortiva nel caso in cui non essendo riuscita a impedire la fecondazione dell'ovulo ne impediva però l'anitamento nella parte endometriale dell'utero della donna avevo notato che ogni tanto ero soggetto a delle emorragie abbondanti distinte da quelle mestruali con coaguli abbinate a malessere diffuso e coliche andavo dal ginecologo e questi generalmente mi diceva che i miei sintomi erano i normali effetti di un corpo estraneo posto all'interno della cavità uterina di una donna e che ha una sua normale mobilità mi faceva allora un'iniezione e mi prescriveva un analgesico fatto fatto in realtà quei sintomi erano il segno di micro aborti il ginecologo che mi aveva praticato l'aborto e mi aveva consigliato la spera la spirale mi aveva messo dunque nella condizione di fare inconsapevolmente innumerevoli aborti nel mio giudizio particolare non potei usufruire dell'attenuante dell'ignoranza a sconto di questo mio peccato perché continuai a utilizzare la spirale anche dopo essere venuta a conoscenza della sua funzione abortiva per mezzo di un sacerdote benedetto sia che ne parlò in una media domenicale i dispositivi intrauterini sono abortivi perciò le donne che li utilizzano si macchiano del peccato di aborto delitto punito con la scomunica late sentenze invece di accogliere lo spirito santo che per mezzo di quel bravo sacerdote era venuto a dimostrare la mia colpa riguardo al peccato alla giustizia e al giudizio lo rifiutai e lo ingiurai furiosamente nella persona del prete vi assicuro che conosco qualcosa di queste cose proprio sul medesimo argomento non in questa parrocchia ma in quella dove dove sono stato ci passai guai per aver stigmatizzato pubblicamente durante le omelie di fuoco che facevo all'epoca l'uso degli anticoncezionali e assicuro che successe fin mondo persi così l'occasione di acquisire la conoscenza della natura doppiamente peccaminosa della spirale e di giungere a voler evitare questo male occasione che non mi si ripresentò fino al momento in cui non mi trovi a contemplare questo mio peccato nel libro della vita continuare dunque a fare uso della spirale il mio ventre da fonte di vita era divenuto fonte di morte o meglio detto era il mattatoio dei miei figli ricordare questa espressione mattatoio dei miei figli io sinceramente mi veramente compiaccio di questa testimonianza perché una delle cose che non bisogna fare e che grazie a dio questo lo compresi fin dai primi anni del sacerdozio è usare linguaggio edulcorato o politicamente corretto non va bene questo non si tratta di mancare alla carità o alla dolcezza o alla delicatezza questi sono atteggiamenti sono discorsi sciocchi perché la prima forma di carità è la verità e la verità va detta nuda e crude e per provocare un pentimento forte proprio una come deve essere una ripugnanza assoluta verso il peccato che è l'unica e ripeto e ribadisco l'unica fonte di ogni male che esiste sul pianeta terra non è il diavolo il diavolo non c'entra quasi niente non c'entra perché il diavolo se noi non lo assecondassimo a cominciare dai nostri progenitori e noi dicessimo amen fine tempi dell'enel non ci potrebbe fare assolutamente nulla zero si porterebbe tutta quanta la rabbia e il male che è che fa dentro l'inferno dove deve stare l'intanato tutto quello che vediamo adesso in giro tutto quello che vediamo adesso in giro a tutti i livelli è tutto frutto del peccato dell'uomo tutto tutto e il peccato oltre ai guai che causa con la divina giustizia ha già in sé la sua punizione la morte che semina il malessere che semina il salario del peccato dice san paolo è la morte non semplicemente la morte fisica la morte con tutto ciò che 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 di brutto essa rappresentano quindi il linguaggio crudo quando si parla di queste cose diretto è è forse l'opera più più caritatevole che si possa fare nei confronti delle anime tu porti la spirale bene il tuo vento è diventato il mattatoio dei tuoi figli e mamma mia e mamma tua è diventato il mattatoio dei tuoi figli una macelleria umana però le cose bisogna bisogna dirle bisogna bisogna dirle bene se uno edulcora se uno accarezza sono blandisce ma sai a questo se è un atto cattivo quindi mi raccomando e pensaci un po prima di farlo perché sai non va tanto bene non funziona questo questo stile il rischio certamente di provocare queste reazioni no è una vita che sono abituato a a questo no le relazioni che si provocano che chi ti ascolta si converte e chi non ti ascolta si ribella ti odia un terzio non dato non è possibile certamente passare come anonimi o inosservati però l'importante che qualcuno si converta e che quelle orribili cose non le faccia mai più negli altri cuori le parole dirette e forti suoneranno con un martello perpetuo perché le parole dirette e forte non te scordi più tu puoi tacitarle ma non puoi ignorarle non si può ecco va bene andiamo avanti occultismo e new age da quando avevo 13 anni avevo iniziato ad appassionarmi al mondo dell'occulto col tempo continui ad interessarmene e approfondire argomento frequentavo ancora indovini e cartomanti andavo anche alle riunioni di un sacerdote che evocava gli spiriti avevo preso l'abitudine a praticare la meditazione trascendentale per ottenere ciò che il suo divulgatore prometteva sviluppare il mio potenziale e utilizzare in pieno le mie capacità cerebrali in nota ci sono delle considerazioni per chi non lo sapesse sulla meditazione trascendentale la meditazione trascendentale è una pratica di meditazione yogica quindi viene dallo yoga diffusa a partire dal 1957 da Mahesh Prasadvarma un mistico filosofo guru indiano più noto come Maharishi Mahanesh Yogi dove Maharishi sta per guida spirituale consistente nella ripetizione mentale di un mantra cioè di una parola composta priva di significato studiavo inoltre le tecniche per acquisire poteri psichici e spirituali ero riuscito a sviluppare con molto più successo rispetto alle mie amiche la telecinesi, la telepatia e facevo viaggi astrali uscivo cioè dal corpo vedi nel libro della vita che il demonio mi stava giocando un grandissimo inganno il suo piano era complesso e mortale con le mie pratiche superstiziose divinatorie voleva che io aprissi le porte dell'occulto affinché lui potesse agire su di me non solo in modo ordinario per mezzo della tentazione ma anche in modo straordinario con le ossessioni, le vessazioni e le infestazioni con la meditazione trascendentale che prese il posto della preghiera voleva controllare il mio pensiero e infine con i poteri psichici e spirituali voleva indurmi all'ateismo faccio un doveroso pit stop apri le porte dell'occulto cioè dai un potere al diavolo che prima non aveva Dio stesso ha dato al diavolo il potere di tentarci in maniera ordinaria ma niente di più perché il diavolo possa agire in maniera straordinaria dentro di noi quindi con ossessioni che sono cose terribili vessazioni o infestazioni si deve aprire qualche porta possono farci malefici possono farci le fatture ma puoi aprirli anche tu e così gliele apri la meditazione trascendentale la meditazione trascendentale vuol dire che dai al demonio la possibilità di controllarti il pensiero terribile vuoi poterli psichici e spirituali? bene se li acquisirai sarai condotto e indotto dal diavolo all'ateismo quando parlavo di questi argomenti con parenti, amici e conoscenti avevo su molti di essi un forte ascendente i miei nipoti per esempio lasciarono che insegnassi loro la tecnica per realizzare i viaggi astrali questa mia capacità persuasiva a compiere le opere vietate dal primo comandamento me la dava direttamente il demonio per suo potere risultava allora simpatica allegra di compagnia generosa la mia gradevolezza però era paragonabile a quella del serpente variopinto e verenoso queste pratiche mi davano un appagamento attenzione emotivo e sentimentale immediato ma effimero e dannoso perché seccavano il canale vitale dell'autentica preghiera capite? quella che non stimola solo l'emozione e il sentimento ma muove la volontà verso il vero bene ciò che il dottore della chiesa santa teresa davila diceva della falsa preghiera si può perfettamente applicare alla mia meditazione trascendentale che me la sostituiva quando un'anima non esce dall'orazione fermamente decisa a sopportare ad ogni cosa tema che la sua orazione non venga da dio allora qui bisogna fare attenzione per esempio a questo aspetto appagamento emotivo e sentimentale tutti noi siamo abbastanza sensibili a queste cose ma una fede solita scusate non solita solida con la D e una religiosità autentica allora certamente Dio è amore immenso è noto in letteratura che quando si entra in preghiera contemplativa o profonda o affettiva si possono vivere delle esperienze molto belle molto gradevoli anche da un punto di vista sentimentale diciamo così emotivo affettivo ma questo non è la cosa più importante neanche il cuore perché ciò che è segno di preghiera autentica è che la volontà si muove verso il bene è che arrivano le virtù ciò che è segno di preghiera autentica è che anche l'intelletto risulta potenziato nelle sue facoltà nella sua capacità di apprendere il bene di conoscere il vero e quindi di orientare la vita della persona di conseguenza dare troppa importanza alla dimensione emotiva e sentimentale non va mai bene perché se queste cose diventano ipertrofiche o troppo appunto importanti seccano il canale vitale dell'autentica preghiera cioè quella che non solo stimola le emozioni e il sentimento ripeto questa cosa c'è ma muove la volontà verso il bene apro il mio studio odontoiatrico a ottobre del 1981 dieci mesi dopo il conseguimento della laurea apri il mio studio odontoiatrico siccome all'epoca stavo bene economicamente perché l'azienda di allevamento di bestiame di mio marito era fiorente potei permettermi di offrire prestazioni odontoiatriche a basso costo questa mia politica azientale avvicinò rapidamente al mio studio molti pazienti della cassa popolare e questo mi venne contato come merito dalla voce meravigliosa il demerito però fu più grande perché provvedeva a ripristinare la salute dentale dei miei pazienti ma allo stesso tempo imprimevo nella loro mente la mia mentalità superstiziosa la mia visione della spiritualità tratta dalla new age e la mia morale sessuale il voler ostinatamente credere contro l'insegnamento della chiesa cattolica che il mio modo di vivere la sessualità fosse non solo lecito ma anche benefico mi induceva infatti a insegnarlo ai giovani pazienti del mio studio dentoiatrico e ai miei nipoti già aperti ai rapporti sessuali prematrimoniali dicevo loro che bisognava godere della sessualità ma in modo responsabile onde evitare malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate divulgavo quindi una sessualità che si potrebbe definire perfettamente sostenibile per un mondo che io percepivo sovrappopolato e soprattutto belligerante proprio perché faceva poco e male l'amore in definitiva mi ridussi a consigliare gli anticoncezionali e l'aborto sebbene avessi sperimentato dei primi la possibile inefficacia e del secondo il trauma esponendo quindi i miei nipoti e i giovani del mio studio odontoiatrico ai medesimi pericoli ai quali io stessa mi ha risposto gravidanza aborto malattie sessualmente trasmissibili ora attenzione che la frase di di gloria il mondo è belligerante perché faceva poco e male l'amore è poi corollata da una nota dove si legge quanto scritto richiama il cerebellimo il cerebellimo slogan americano contro la guerra make love not war fate l'amore non la guerra spesso associato alla controcultura americana degli anni 60 del secolo scorso e rispecchia anche la possibile soluzione al problema della guerra proposto da sigmund freund in una sua lettera scritta nel 1932 risposta albert einstein lettera facente parte del carteggio conosciuto con il titolo warungkrig se la propensione alla guerra è un prodotto della pulsione distruttiva contro di essa è ovvio ricorrere all'antagonista di questa pulsione l'eros questa era tutto ciò che fa sorgere le guerre emotivi tra gli uomini deve agire contro la guerra questa era la ricetta proposta da Freud alla società delle nazioni che stava interrogando gli intellettuali del tempo per trovare il modo di prevenire la guerra questo è anche uno dei fondamenti della diffusione della nuova cultura sessuale nel mondo caldeggiata dall'organizzazione delle nazioni unite riprendo la lettura questa stava promuovendo di fatto con la sua opera diciamo così di indottrinamento satanico esponeva i giovani agli stessi rischi suoi gravidanza aborto malattie sessualmente rasmissibili risultato dovetti finanziare l'aborto di diverse ragazze tra le quali aveva un adolescente di appena 14 anni causa la morte di un giovane mio paziente 23enne e di suo figlio di 2 anni e mezzo questo mio giovane paziente da me introdotto alla sessualità responsabile all'età di 12 anni già consumava i suoi primi rapporti sessuali protetti e a 15 anni Medellin contraste il virus HIV pur avendo utilizzato il solito preservativo da me consigliato se ne accorse solo anni dopo quando cioè suo figlio morì di polmonite a causa del virus risultato lui era smesso anche lui poco dopo sviluppò l'EDS e morì ero correa delle morti premature di entrambi degli aborti consigliati e pagati e delle ferite dell'animo di questi giovani ferite prodotte dal peccato compiuto e che senza che io e le mie vittime sapessimo attribuirglielo l'origine o erano la causa delle nostre cicliche tristezze mortali nota il pungiglione della morte e il peccato afferma San Paolo intendendo per morte la morte ontica quella dell'essere morte che genera nell'uomo tutti i sentimenti contra la gioia e la pace allora amici miei cari abbiamo capito bene questa cosa qui sono anni queste cose le predico in continuazione senza che io e le mie vittime sapessimo attribuirglielo l'origine la causa delle nostre cicliche tristezze mortali erano le ferite prodotte dal peccato come ho detto prima il salario della morte il salario del peccato della morte ma anche il pungiglione della morte è il peccato no? che significa il pungiglione della morte se ti punge una vespa ti inietta il veleno e tu senti il dolore se tu pecchi tu ti ti suicidi suicidi la tua anima e ti condanni a vivere una vita orribile dopo voglia dire no attribuire la nostra tristezza la nostra cosa a causa e agenti o addirittura qualcuno che bestemmiando se la prende con il padre eterno per queste cose ero corrie anche delle incalcolabili conseguenze di questi peccati sui parenti amici e conoscenti di questi giovani la mia vista non era in grado di scorgere nel libro della vita alla fine di questa catena di effetti devastanti del mio peccato e dunque la fine della mia corresponsabilità quindi attenzione a fare i cretinetti cioè a farsi maestri di peccato al prossimo perché poi si diventa correi correi significa rei insieme colpevoli insieme io morta spargevo morte e lo facevo efficacemente la voce miravigliosa mi disse che mi era stata data la parola per consigliare i dubbiosi insegnare agli ignoranti ammonire peccatori consolare gli affitti perdonare le offese sopportare pazientemente le persone moleste pregare a Dio per i vivi e per i morti sono le sette opere di misericordia spirituale per chi non lo sapesse per estendere insomma il regno dei cieli non certo per dare cattivi consigli ed estendere il regno delle tenebre ma noi che consigli diamo ricordiamo sempre col col diavolo e col male e col peccato non si scende a compromessi per nessun motivo non si concede neanche tanto così il vostro parlare sia sì sì no no ha detto il nostro unico maestro tutte quante le robe che oggi si dicono già sì però vediamo sì però la situazione a destra e sinistra ora qualcosa di vero c'è perché la valutazione della condizione della persona in ordine alla sua responsabilità morale dinanzi ad una fattispecie peccaminosa è doverosa ma questo non può non deve portare ad atteggiamenti come dire di indulgenza verso il peccato o di blandimento verso il peccatore il peccatore non deve essere blandito deve essere aiutato non blandito il potere della parola nuovo paragrafo la benedizione e la maledizione la voce meravigliosa mi fece comprendere che la mia parola non solo otteneva effetti in quanto portatrice di significato e strumento di comunicazione del mio pensiero la mia parola come d'altronde quella di ogni uomo possedeva un potere in se stessa e agiva indipendentemente da me che l'avevo proferita divenendo creatrice o distruttrice e situandomi nella sfera della salvezza o in quella della perdizione a seconda che avevo pronunciato una maledizione o una benedizione nel libro della vita vedi che quando mi segnavo con il Signore della Croce dicendo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo benedicevo i miei pensieri le mie parole e la mia volontà quando poi benedicevo con qualcuno con semplici espressioni come Dio li benedica oppure il Signore te ne ricompensi la mia benedizione portava sempre sui effetti benefici nella vita della persona da me benedetta come li portavano le benedizioni che la mia mamma mi elargiva sebbene questi effetti fossero in parte neutralizzati dalla mia malvagità quante persone si sono salvate in punto di morte per la benedizione e io che avevo messo di benedire i miei figli i genitori sono chiamati per primi a benedire la benedizione del Padre si legge nel libro del Siracide consolida la casa dei figli ciò che è benedetto dai genitori è benedetto da Dio la forza della benedizione dei genitori è parte integrante del mistero della loro missione e crerice e sacerdotale consacrati ad essere tali nel sacramento del matrimonio essi ricevono una forza che non verrà loro più tolta il potere e la forza di benedire fanno anche parte della dignità del posto che i genitori occupano come rappresentanti di Dio Dio stesso sta dietro di loro egli conferma ed esaudisce i loro desideri quando benedicono per le benedizioni di mia madre fui preservata da tanti peccati e tanti mali e ottenni la grazia che mi aprì all'aiuto di Dio come racconterò più avanti la benedizione dei genitori è veramente come il sacramentale del focolare domestico se questo può la benedizione di un semplice laico figuriamoci la benedizione di un sacerdote ora ho sempre detto me lo chiedono ogni tanto un laico non può benedire un altro laico se non con la formula come dire di auspicio no? si può dire Dio ti benedica anzi più lo diciamo meglio come sapete io saluto sempre vi congeto sempre al termine dei miei incontri con la formula che Maria Santissima stessa ha insegnato a buono con Macchiorano Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga avete sentito che succede? chi sente queste benedizioni ne trae beneficio oggettivo oggettivo io sono sacerdote tra l'altro ma dentro casa papà e mamma soprattutto papà sono dei piccoli sacerdoti perché sono consacrati dal vincolo matrimoniale e per i figli i genitori tengono il posto di Dio i genitori rappresentano Dio dentro casa quindi capite che bellissima cosa e che grande potere hanno però quanti grandi omissioni possono compiere no? perché se non li benedicono i figli che succede? di quanti beni sono arrivati i figli come i sacerdoti che non benedicono no? più si benedice meglio è ricordo che quando lessi tempo fa il testo di Maria Simma diceva che c'erano un sacco di sacerdoti impurgatori con le mani nere perché avevano benedetto poco che ce l'hai a fare le mani consacrate se non se non benedici? nel libro della vita vi di anche le mie maledizioni che portarono effetti negativi laddove non c'era protezione divina per i peccati degli uomini io ero solita proferire espressioni tipo maledetta vita maledetto lavoro maledetto tempo la voce meravigliosa mi mostrò che le mie maledizioni si sparsero e compirono numerosi danni che non sempre si realizzarono nelle mie vicinanze per alcune mie maledizioni un povero contadino subì un incendio un altro il prosciugamento di un suo lago il rigu allora le maledizioni non si dicono figlioli miei cari se proprio non ne può far meno dica maledetto sia il peccato questo si può dire fino al giorno del giudizio universale maledetta sia la concupiscenza maledetta sia la lussuria quindi che ne so uno se proprio non ce la può fare a meno di lanciare qualche maledizione maledetti siano i dannati intanto questo gliel'ha detto Gesù nel Vangelo via dei miei maledetti nel fuoco eterno preparato non le persone reali quindi quelli che sono dannati però per il resto niente maledizioni dire maledetta vita è un delitto dire maledetto lavoro è un delitto dire maledetto tempo è un delitto non si dice approfessione indebita si chiama quest'altro paragrafo figuriamoci se mi preoccupavo delle conseguenze delle maledizioni che proferivo non facevo nemmeno caso alle conseguenze calcolabili delle mie omissioni ero tutta presa dalle mie cose specialmente dal mio lavoro tutto ciò che si frapponeva fra me e il mio lavoro veniva dal mio posto in secondo piano fino a dimenticarmene mancando così a volte alla carità verso il mio prossimo come quando verso la metà degli anni 80 mi appropriai di 4.500 pesos che una cassiera per sbaglio mi aveva dato al posto del corretto resto me dite non perché avessi bisogno di denaro ma solo perché me ne accorsi mentre stavo andando al mio studio dentistico avrei potuto restituirli in seguito almeno dopo che il rimorso di coscienza mi spinse a confessarmi unica volta nella mia maturità con autentico pentimento dolore e vergogna ma una volta lavato il mio senso di colpa fondato sul senso di onestà insegnato da mio padre non mi preoccupai affatto della cassiera chi non l'aveva dimenticata però era la voce meravigliosa la quale non mi accusò di furto vietato dal settimo comandamento essendo stata lavata sacramentalmente da quel mio peccato ma mi imputò la mancata restituzione mi fece vedere che il denato da me trattenuto venne decurtato dal misero stipendio della cassiera per me 4.500 pesos di allora erano pochi spiccioli ma per quella donna stipendiata al salario minimo era una piccola fortuna per mia colpa quella povera donna e i suoi due figli detti dovettero rimanere senza cibo per due giorni e lei giunse a incolpare Dio della sua disgrazia l'unica da incolpare era la mia mancanza di carità fui ritenuta corresponsabile anche del peccato della donna capite che succede capite che succede che catena infernale che innesca il peccato quindi questa bestemmia in colpa Dio della sua disgrazia e di chi è la colpa in causa di chi gli ha rubato quei 4.500 euro capiamo maternità finalmente è la mia prima figlia a 26 anni nel 1986 dopo 9 anni più permetterà tacere le dicerie sulla serenità mia di mio marito che per desiderio di maternità 3 anni dopo rimasi incinta anche del mio secondo genito credetti che riempire i miei figli di tutto ciò che mi era mancato nell'infanzia avrebbe supprito le mie tante assenze per lavoro e divertimento ma la voce meravigliosa mi disse che mi ero ingannata non avevo riflettuto che con il concepimento e la nascita dei miei due figli ero divenuta depositare e custode di due prodigi di Dio creatore perché ogni esistenza nuova è un prodigio del creatore non avevo pensato che dentro le carni dei miei figli generate dalla carne e dal sangue umano mio e di mio marito vi erano due anime create da Dio e che dovevano essere cresciute a una dottrina di spirito e verità per essere riconsegnate a Dio degnamente non avevo considerato inoltre che ogni figlio era un talento affidatomi dal Signore e che conformemente alla parola alla parabola dei talenti sarebbero stati per me guai se non li avessi fatti fruttare lasciandoli inerti disinteressandomene oppure peggio ancora li avessi corrotti hai cresciuto i tuoi figli nella bambagia ma i tuoi figli hanno avuto generatori elettronici mi disse la voce meravigliosa i miei figli infatti dopo l'uscita dall'asilo e dalla scuola alle 16 venivano educati dai genitori surrogati che si erano trovati cioè la televisione il computer e i videogiochi ero dunque colpevole di aver esposti senza protezione all'influsso negativo di questi mezzi ed ero responsabile delle conseguenze da loro subite qui si apre un tema abbastanza delicato specialmente per le donne tema che si deve porre necessariamente la donna che diventa mamma e che lavora fuori casa è una cosa buona o no? è una cosa buona che i figli abbiano genitori elettronici oppure quando è possibile che al posto dei genitori i genitori li facciano i nonni o la babysitter specialmente quando non ci sono condizioni oggettive di reale quindi dico oggettivo e reale necessità è proprio necessario che una donna lavori fuori casa le donne devono farsi una domanda molto molto semplice perché voglio fare questa cosa perché la risposta generalmente poi se mi sbaglio mi si può sempre corriggere come diceva il buon Giovanni Paolo II è la propria il proprio desiderio di realizzazione di gratificazione è che razza di vita faccio dentro casa tra strigli dei ragazzini pannolini pappette elettrodomestici stracci da spolvero scope tappata dentro casa che faccio che razza di vita sarebbe questa è così su queste cose a me piace stimolare le coscienze una donna sposata che è anche mamma deve chiedersi quando mi presenterò dinanzi al nostro signore è tutto bene va bene quello che ho fatto lui mi dirà brava disamore per mio marito la voce meravigliosa mi riuscita a dare non soltanto che ero una pessima madre pessima madre ma che ero anche una pessima moglie quando ero fidanzata Luis Fernando era il mio amorino la mia vita il mio cuore ed ero molto attenta alle sue necessità e alle sue esigenze ma come cambiò il mio registro nei suoi confronti lungo il tempo del matrimonio era come se riservassi su di lui la vendetta per i sovrussi subiti da mia mamma per mano di mio papà quando da piccolo infatti mi lamentavo con la mia mamma della cattiveria del mio papà mia mamma memore della visione ricevuta illuminata dallo spirito santo per la costante e sicura della relazione d'amore che aveva con Dio mi rispondeva sempre con dolcezza no non è cattivo è buono e vi ama ma purtroppo è malato nell'anima aiutami a pregare per lui la mia mamma riuscì a evitare che provassi rifiuto e rabbia per mio papà anzi riuscì a farmelo amare non riuscì però ad evitare che riversassi sugli uomini in generale e sul mio panito in particolare i pregiudizi e i sentimenti negativi che il comportamento di mio padre mi ispirava quando udivo mio padre per esempio vantarsi delle proprie conquiste amorose a tavola adulterine e della propria virilità e vedevo mia mamma sopportare tutta questa umidazione mi riproponevo che non sarei mai diventata una moglie sottomessa siccome Luis Fernando dopo le mie gravidanze aveva iniziato a bere senza di me con i suoi amici per me era diventato un disgraziato e un infelice buono a nulla non meritava affatto le mie attenzioni come non le meritava dalla propria moglie nessun marito al mondo ne ero talmente convinta che in quel periodo prendendo spunto dal mio vissuto matrimoniale e facendo la parodita delle fiabe ero solito a dire che si andava all'altare con un principe e si rimaneva sposati con un rospo e a un rospo non lo si serve quando ero in casa stanca dal lavoro e se per caso chiede che gli si cucini qualcosa glielo si fa di malavoglia senza amore ingiureando maledicendo e spruzzando tutto il proprio poverino nel pasto preparato giustificavo questo mio disamore per mio marito con l'attribuiglie nella responsabilità aveva demeritato il mio amore perché era cambiato a causa dell'alcolismo vero questo qui? come vi dì nel libro della vita non era tanto il suo alcolismo a rendermi Luis Fernando odioso visto che l'alcolismo aveva iniziato a darmi fastidio solo dopo che lui spinto dal mio disamore smise di bere con me a rendermelo odioso era piuttosto il mio peccato lo volevo infatti vedere tale per giustificare a me stesso quel mio essere ladra che la mia coscienza ve li improverava attenzione che qui Gloria descrive un meccanismo sottilissimo di autogiustificazione di tacitazione della coscienza avevo infatti rubato a mio marito la tenera fidanzata che lo amava nonostante il suo vizio del bere avrei dovuto continuarlo ad amare così come era anche nel matrimonio non perché si corrompesse ulteriormente nell'alcolismo ma perché giungesse a volersi elevare spiritualmente iniziando ad amarsi e a rispettarsi in Dio per poi amare Dio il prossimo come se stesso ha una maggiore corruzione di mio marito avrebbe dovuto corrispondere al mio maggiore sforzo di amore questo è il matrimonio figli animi cari non ha questo sta degenerando quindi digenera sempre di più ha quindi soprattutto il diritto di non amarmelo e di non filarmelo perché è indegno del mio amore che ha debosciato non è questo quello che si promettono nel giorno del matrimonio non è questo amarti e onorarti tutti i giorni nella mia vita nel dolore nella salute e nella malattia quindi a maggiore corruzione corrisponde un maggiore sforzo di amore non una diminuzione di questo fino a scomparire del tutto la mia mamma mi aveva messo in guardia durante il tempo del fidanzamento figlia mia chiedi a Dio la grazia di far giungere Luis Fernando a voler smettere di bere se poi Luis Fernando non volesse farlo figlia mia non lo sposare con la tua mentalità non solo indocile ma ribelle avrai enormi difficoltà a resistere a fianco di un uomo del genere portato a dominarti e ad usarti mia mamma sapeva per esperienza personale quello che diceva conosceva quale sacrificio comportasse amare un marito alcolizzato violento e adultero seriale dandogli rispetto conforto aiuto e sottomissione quella sottomissione che deve essere propria della donna nella comunità familiare fin tanto che non assume sostanza di consentimento al peccato adesso c'è una tendenza diffusa a prendere i passi della scrittura che non piacciono alla mentalità moderna e a dire no ma queste sono sono espressioni anche pure un po' offensive che vabbè dentro un certo contesto potrebbero pure starci ma mica oggi possiamo prenderle così siete d'accordo che cosa vi dice questa cosa qui in noto c'è una citazione di Efesini 5 nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri le mogli non siano i loro mariti come al Signore il marito infatti è capo della moglie così come Cristo è capo della Chiesa lui che è salvatore del corpo e come la Chiesa è sottomessa a Cristo così anche le mogli lo siano i loro mariti in tutto ah ma io non voglio essere sottomessa ma io ho la mia dignità io sono qua io sono la testa a sinistra dice questo come si permette vuoi fare così? fai pure Dio sarà contento di quello che stai facendo ti interessa se Dio è contento di quello che stai facendo perché se ti interessa chieditelo ah se non ti interessa va bene non te lo chiedere però ricordati che al termine della vita terrena sempre a lui devi andare a rendere conto sia che ti interessa sia che non ti interessa sia che ti piace sia che non ti piace sia che lo vuoi sia che non lo vuoi noi non non c'è scampo figlioli miei gatti da Dio veniamo e a Dio tendiamo perché il giudizio particolare ci andranno tutti amare un marito alcolizzato violento e adultero seriale ma la storia della chiesa è piena di queste di queste storie no quante ne volete ed è proprio contro questa che si è scagliata la proprio contro questo come dire contro questo cliché se vogliamo che si è scagliata la rivoluzione femminista proprio per rovesciare questo adesso avete visto manifestazione adesso ancora dopo dopo 50 anni quasi no giù le mani dalle donne il grembo è mio lo gestisco io la vita certo si da destra e a sinistra no quella sottomissione che deve essere propria della donna nella comunità familiare fin tanto che non assume sostanze di consentimento al peccato attenzione questo è particolarmente dedicato quando si affrontano certe tematiche soprattutto del sexto comandamento ecco perché l'essere sottomesso della donna non significa affatto che la moglie debba consentire alle richieste peccaminose del marito perché sono sottomesso devo essere sottomessa quindi se mi chiedi di fare questa cosa io la faccio perché devo essere sottomessa no per nessun motivo la devi fare mio marito si arrabbia e poi andrà a prostitute speriamo di no ma non è che per impedire che si arrabbia e che vada a prostitute puoi metterti a fare perdonatemi la prostituta tu non si può qui si tocca anche un tema delicatissimo perché la sottomissione non è soltanto della moglie nei confronti del marito noi tutti noi siamo sottomessi a tante cose tutte quante le autorità legittime quindi tutte le autorità che legittimamente hanno potere su di noi ordinariamente non dobbiamo essere sottomessi ci devo essere sottomesso come cittadino ai governanti come sacerdote al vescovo alle autorità della chiesa al papa a chi altro al confessore quando quando mi confesso perché quando c'è un'autorità la condizione ordinaria è la sottomissione qual è il limite il consentimento al peccato non è che su una cosa peccaminosa della chiesa del tuo marito tu la fai quindi il discriminante il limite è questo se l'autorità ti chiede qualche cosa che va oggettivamente contro la tua coscienza oggettivamente contro la tua coscienza nella coscienza parla Dio noi non possiamo fare una cosa di questo genere ci sono gli esempi eclatanti no? cioè sapete tutti quanti insomma che i gerarchi nazisti a Norimberga hanno detto dice ma che abbiamo fatto noi? non abbiamo fatto niente noi abbiamo eseguito degli ordini Hitler dava degli ordini e noi li abbiamo eseguiti che vuoi? era il capo dava gli ordini e noi eseguivamo e no figlio mio e no fratello mio l'ordine giusto non deve essere eseguito non solo né deve essere eseguito né tanto o meno tu ti puoi trincerare dietro l'ordine giusto e dietro l'obbedienza per tacitare la coscienza la vima non è voluta la moglie deve essere infatti sottomessa prosegue gloria ma non degradata non degradata la mia mamma sapeva che questa visione cristiana non mi apparteneva e che non avevo le sue virtù mi invitava quindi a considerare che Dio mi aveva dato riflessione e intelletto perché li usassi e tanto più li usassi in caso di grave importanza come lui era la formazione di una nuova famiglia la sua madre ha detto guarda un po' verifica durante il tempo del fidanzamento se questo smette di bere se no non te lo sposai avrei messo a repentaglio l'anima e l'avrei potuta portare a morte per tenere di vista solo figli umani nella scelta del conogge e non volgermi al padre dei cieli in quell'ora solenne mi invitava a guardare al mio spirito e allo spirito di Luis Fernando senza farmi bastare che fosse bello ricco giovane influente nel mondo come se la santità non avesse peso nella scelta le cretinate a cui vengono a cui viene posto oggi attenzione no? è bello ricco è influente nel mondo la santità avrebbe acquistato tutto il suo peso dopo le nozze e il mio matrimonio per carenza dei sentimenti cristiani sarebbe stata una delusione delusione che però non avrebbe potuto giustificare davanti a Dio il mio adulterio e la separazione parliamo la prossima volta di questo perché pure questa ha fatto gloria se avessi dunque errato per leggerezza o per il calcolo a sposarmi con Luis Fernando avrei dovuto poi sopportarne le conseguenze per non creare maggiori sciagure che sarebbero ricadute specialmente sulle vittime espiatorie della situazione cioè sugli innocenti figli portati a soffrire più che la vita non comporti e a giudicare coloro che Dio ha fatto ingiudicabili per precetto il padre e la madre allora attenzione qui c'è un altro passaggio fondamentale fondamentale se tu ti sei sposata che hai fatto un matrimonio per dirla con i bravacci di Dona Blondio che non sa da fare e sei stato pure invitato a pensarci nella vita figlioli miei cari bisogna imparare a fare una cosa a prendersene le conseguenze ad assumersene le responsabilità ad assumersene io non lo dico perché sono sacerdote ma sapeste quante volte l'ho pensato quando mi raccontano certe storie dico ma che tu sei sposata a fa questo o questa perché a volte c'è anche questa che tu sei sposata a fa non lo dico e non dico nemmeno dici però tu lo sei sposato e mo te lo tieni perché se uno usasse il tempo del fidanzamento non per cominciare a fare marito e moglie prima del tempo ma a usare quel tempo come Dio vuole che sia usato cioè fai discernimento cioè la vocazione al matrimonio è questa la persona adatta a te è una persona affidabile ci posso fare una famiglia cristiana se non è meglio soli che mal accompagnati non ascoltare i consigli di mia madre perché mi chiedevo più sapiente di lei sposandomi con Luis Fernando a 19 anni mi risposta prematuramente ad una prova più grande delle mie capacità visto che non avevo maturato le risorse necessarie per farvi fronte cioè le virtù di mia madre ecco e poi la prossima volta vedremo come tutto questo purtroppo ha avuto delle conseguenze devastanti tanto per fare una nuova insomma però di questo parleremo se ti vuole la prossima settimana che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga la prossima settimana e la prossima settimana